Carissimi, il Messaggero Marittimo e Granducato TV sono atterrati a Berlino alla Fiera Fruite e Teologistica. Scusate l'abbigliamento ma a due gradi sotto lo zero non è proprio una temperatura eccellente. Cosa c'è oggi? Oggi è un evento diciamo internazionale dove si parla di frutta, di verdura, cioè meglio dire dove si parla di agroalimentare, di trasporti di agroalimentare da tutto il mondo per tutto il mondo con via strada, via mare, via aereo. Ecco in questa fiera è presente anche Livorno. Noi come Messaggero Marittimo abbiamo consegnato questa rivista che voi vedete ma per chi va in fiera poi se la troverà fra le mani. Livorno è presente perché questo dell'agroalimentare è un settore che ha sempre visto il porto di Livorno preminente in questo settore. Qui si presenta nella HAL 25 stand A1, viene presentato meglio a tutti gli ospiti, a tutti i partecipanti che sono quasi 4.000, Livorno Cold Chain. Questa collaborazione viene svolta dall'autorità di sistema portuale, dall'Interporto Vespucci, dal Terminal d'Arsena Toscana, dalla Rifer Terminal della Compagnia Lavoratori Portuali. È diciamo così una collaborazione dove si tratta di vedere come si attua questa catena del freddo in merce in arrivo, quindi trasportata verso i magazzini, messa nei magazzini frigorifere e quindi poi consegnata in varie parti d'Italia e perché no anche in varie parti d'Europa. Comunque noi vi terremo presenti di cosa succede in questa fiera naturalmente, faremo come sempre le nostre interviste e voi so che ci seguirete con affetto, ma prima di chiudere come sempre devo dirvi che noi vogliamo che ci augurate anche un buon lavoro perché ne abbiamo bisogno.